Avviate le procedure da parte dell'ASP di Caltanissetta per la copertura dei posti vacanti. Approvato l'atto aziendale, definite le piante organiche con il decreto assessoriale, il direttore generale Carmelo Iacono ha dato il via a tutte le procedure per definire il modello organizzativo della sanità provinciale, verificando tutti i posti vacanti sul territorio e avviare la stabilizzazione, la mobilità e i concorsi. Sono state infatti inoltrate all'assessorato le richieste per la copertura dei posti di direttore delle strutture complesse già esistenti nei presidi dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta e al Vittorio Emanuele di Gela. Avviate anche le procedure per istituire a Gela la nuova unità operativa Breast Unit per la cura e l'assistenza delle patologie neoplastiche alla mammella. Faremo un piano triennale di assunzioni e quindi creeremo delle priorità. Ovviamente è sotto gli occhi di tutti, e lo abbiamo detto in tutti i modi, che il tetto di spesa che ci è stato assegnato di 138 milioni di euro è assolutamente insufficiente per realizzare il progetto che noi abbiamo proposto. Il risultato è che non abbiamo potuto dotare come previsione tutte le strutture con le dotazioni organiche previste dagli standard, cioè ci siamo avvicinati agli standard ma non ci sono gli standard. Abbiamo dovuto mantenere l'apertura dell'ospedale di Mazzarino, dell'ospedale di Niscemi e abbiamo dovuto non depotenziare l'ospedale di Mussomeli. Questi sono degli oneri importanti che ricadono su quella che è la organizzazione generale. Tra le altre cose, noi abbiamo incombenze che non sono soltanto di tipo ospedaliero. Vi sono tutte le fasce debole da proteggere, ad esempio l'Alzheimer e l'autismo. Queste fasce prima erano protette con del personale che era personale co-co-co, nel senso a contratto. Adesso questo personale deve rientrare dentro la pianta organica. Altro elemento importante, c'è stato segnalato che dobbiamo inserire nel tetto di spesa anche la centrale operativa del 118 dove ci sono 9 medici e 32 infermieri che devono rientrare dentro questo tetto di spesa. Allora voi capirete che per avere tutte queste cose, i 138 milioni non sono sufficienti. E quindi non è che manchino 5 milioni di euro, come vanno dicendo tutti. Mancano 15 milioni di euro per poter attivare tutto.